Ora, so benissimo che c'è proprio un piano per svuotare di contenuto questo Parlamento e per ridurre le opposizioni al nulla, però tutto ha un limite, signor Presidente, per cui io chiederò al Presidente Fico di tutelarmi, di richiamare la Presidente Grande e di spiegare alla Presidente Grande che non può lasciar passare questi epiteti come se fossero roba ordinaria e farò valere la mia onorabilità in tutte le sedi e più ancora della mia onorabilità il ruolo delle opposizioni, perché in una democrazia le opposizioni sono vitali, servono, perché altrimenti ci trasformiamo nell'Ungheria di Orban, che capisco è il progetto di qualcuno, quando diventeremo fraccaropoli faremo anche questa roba qui, ma per il momento le opposizioni non dicono stupidaggini, esprimono le proprie opinioni. Grazie.